Decreto cessioni è in situazione particolarmente grave per gli interventi che rientrano nell'ambito del bonus ristrutturazioni e dell'eco bonus ordinario. Nelle ultime settimane non si parla di questo famoso decreto cessioni, con cui di fatto è stata eliminata la possibilità di utilizzare l'opzione alternativa dello sconto in fattura e della cessione del credito per tutti gli interventi di riqualificazione energetica o di rinnovo del patrimonio edilizio, quindi per tutti sostanzialmente i bonus presenti nel mondo dell'edilizia. Spesso, ho fatto tanti video a proposito, la cosa importante da sottolineare è che quando si parla di decreto cessioni si parla sempre solo di super bonus, ma il super bonus rappresenta sicuramente la forma di incentivo più discussa degli ultimi due anni e sicuramente quella con la PIL maggiore perché è quella che prevede un'aliquota di detrazione più alta, però questo decreto cessioni e quindi, come ho detto, l'eliminazione dello sconto in fattura e della cessione del credito riguarda tutti quanti i bonus. In particolare, per alcuni di essi di cui si parla molto poco, questa eliminazione di queste opzioni alternative rischia di introdurre delle vere e proprie distorsioni che mettono in una situazione molto pericolosa, molto grave migliaia di imprese che si sono già sbilanciate applicando lo sconto in fattura e magari tanti cittadini, tanti privati che hanno iniziato praticamente, hanno magari dato l'acconto iniziale e che volevano utilizzare la cessione del credito. Ho deciso di fare un video ad hoc per mettere in evidenza questa che è una situazione molto, tra virgolette, pericolosa che si potrebbe verificare e che potrebbe riguardare tantissime persone, per cui credo sia importante, ho ritenuto utile fare un video ad hoc. Allora, mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere, da oltre dieci anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube, cliccando sulla campanellina rimane aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale, nel link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati, potrebbe esserti utile abbonarti nel caso in cui tu stai affrontando la ristrutturazione del tuo immobile e vuoi accedere a uno di tanti bonus che ancora ad oggi sono presenti nel mondo dell'edilizia oppure se stai affrontando una compravendita immobiliare vuoi valutare gli aspetti più importanti da prendere in considerazione quando si vende o si acquista un immobile. Detto questo ti chiedo di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di che cosa si tratta. Allora, abbiamo detto che il decreto cessioni ha di fatto eliminato la possibilità di utilizzo delle opzioni alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito. È stato pubblicato il 16 febbraio quindi questo riguarda tutti gli interventi avvenuti dopo o meglio, per meglio dire, restano esclusi da questa situazione cioè dall'impossibilità di utilizzare l'opzione alternativa di sconto in fattura e cessione del credito tutti quegli interventi per i quali, ad esempio nel caso del super bonus applicato a livello condominiale prima del 16 febbraio sia stata presentata la CILAS per gli interventi laddove serva la CILAS e sia stata fatta praticamente la riunione condominiale con l'approvazione ufficiale dei lavori di riqualificazione energetica per i quali accederà all'incentivo o laddove ci sia un intervento di demolizione e ricostruzione sia stata presentata la richiesta del titolo utilizzativo. Nel caso di interventi diversi dal super bonus, quindi immagino per esempio al bonus ristrutturazioni per esempio deve essere stata richiesta il titolo autorizzativo prima del 16 febbraio o laddove magari non serve il titolo autorizzativo perché ci sono degli interventi di edilizia libera che possono accedere ad esempio all'eco bonus o al bonus ristrutturazioni, mi viene in mente la sostituzione di infissi e finestre e gli interventi devono essere iniziati prima del 16 febbraio del 2023. Ora, in queste situazioni si possono creare delle difficoltà interpretative che possono mettere in difficoltà tante persone. Perchè? Prendiamo in considerazione i due incentivi del bonus ristrutturazioni, il bonus casa del 50% o dell'eco bonus. Ci sono alcuni interventi che rientrano in questo ambito, ad esempio anche dell'eco bonus, che vengono eseguiti in edilizia libera per cui non è necessario alla presentazione di nessun titolo autorizzativo. Faccio ad esempio l'esempio della sostituzione di infissi e finestre. Allora, in questi casi, per accedere alla possibilità di utilizzare scontri fatture e cessione del credito che cosa bisogna aver fatto prima del 16 febbraio? Si parla di inizio lavori, ma è sufficiente aver presentato un acconto oppure, come sembra, deve essere stata già firmata la dichiarazione sostitutiva e pagato il saldo finale? Perché dico questo? Allora, nel caso, ad esempio, di un intervento di sostituzione di infissi e finestre per cui si accede all'eco bonus, qual è l'iter procedurale che esegue un intervento di questo tipo? Allora, innanzitutto, bisogna fare un preventivo al cliente. Il cliente valuta il preventivo, lo accetta e versa un acconto pagando attraverso bonifico parlante. Una volta che viene fatto l'acconto, viene bonificato l'acconto, viene messa la fattura relativa a quel pagamento, dopodiché viene fatto l'ordine dei componenti che eventualmente potrebbero essere dei componenti che devono essere realizzati piuttosto che assemblati, eccetera. Poi c'è proprio la fase di costruzione e assemblaggio del prodotto, dopodiché c'è l'inizio dei lavori vero e proprio con la dichiarazione, con la firma del cliente della dichiarazione sostitutiva e alla fine il saldo finale, quindi l'emissione della fattura e il bonifico del saldo finale. Ora, in questi casi, per poter utilizzare l'opzione alternativa dello sconto di fattura, quindi non rientrare nell'ambito del decreto cessioni, andando a vedere il decreto legge numero 11 del 2023, sembra che sia necessario, lui dice bisogna aver iniziato i lavori, quindi significa che dobbiamo essere nella fase in cui si è arrivati già alla firma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e pagamento del saldo finale. Ma in questo caso rimarrebbero fuori migliaia di possibili interventi per i quali magari qualche mese fa è stato firmato l'ordine, è stato versato l'acconto, quindi è stato fatto il bonifico dell'acconto, emessa la fattura relativa all'acconto, è stato fatto l'ordine dei materiali e adesso si aspetta che i materiali arrivano. In quei casi che cosa succede? Non si può più utilizzare lo sconto di fattura, questo vorrebbe dire mettere in grossa difficoltà tutte quelle aziende che magari hanno applicato lo sconto in fattura in fase iniziale, perché qualche mese fa lo potevano fare, oppure mettere in difficoltà quei cittadini che avevano anticipato magari i soldi perché pensavano poi di poter cedere il credito, quindi situazione che potrebbe riguardare migliaia e migliaia di persone e imprese che potrebbero trovarsi ulteriormente in difficoltà oltre alla situazione già difficile che si sta vivendo in questo periodo. Qual è la soluzione proposta dalle varie categorie di settore? Quella di pensare ad esempio di far rientrare nell'ambito di coloro che restano esclusi dal decreto cessioni, non soltanto quelli ad esempio nel caso di interventi in edilizia libera per i quali non bisogna presentare la richiesta del titolo autorizzativo, non bisogna presentare la scia in comune o piuttosto che il permesso al costruire al comune o qualunque sia il titolo autorizzativo, in questi casi ammettere alla possibilità di utilizzare lo sconto di fattura cessioni del credito non soltanto per chi ha iniziato i lavori ma anche per chi ha semplicemente firmato un ordine e dato un acconto iniziale. Quindi laddove c'è stato un versamento di denaro, quindi un bonifico parlante è stato pagato un acconto, anche per loro deve valere la condizione di esclusione dal decreto cessioni e quindi la possibilità di utilizzare sconto di fattura cessioni del credito. Questo sicuramente andrebbe incontro a tutte quelle persone che hanno deciso qualche mese fa, molto prima uscisse ma fosse addirittura pensato il decreto cessioni e quindi aiutarle e consentirli di recuperare magari le somme che hanno versato come acconto. Di conseguenza anche per le imprese che hanno applicato lo sconto in fattura riuscire poi a recuperare quei crediti che hanno praticamente anticipato come sconto in fattura al cliente. E questa credo che sia una richiesta assolutamente di buon senso. Speriamo tutti quanti che il governo risponda positivamente a questa richiesta avanzata dalle categorie di settore. Vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane su questo tema che come ho detto è molto molto discusso, sicuramente il tema più discusso del momento e siamo tutti quanti ansiosi di vedere che cosa il governo deciderà di fare su questo argomento così spinoso. Vi terrò aggiornati per cui vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube. Cliccando sulla campanellina rimarrete aggiornati sull'uscita dei prossimi video. Se volete potete anche decidere di abbonarvi al canale. Ciao!